Salve a tutti, sono Matti Ciao per le amiche più intime, Matti Oschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a una nuova puntata di Facce da Ciop, la rubrica settimanale a tema wrestling, dove ci confrontiamo sugli ultimi avvicendamenti. Perdonatemi il ritardo, ma sapete, hanno aperto le prevendite, c'è stato un casotto, adesso vi raccontiamo il primo argomento, dobbiamo confrontarci un attimo. Kiri84 è tra noi. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao chat, come state? Spero tutto bene, spero che tutti siate riusciti a prendere almeno un biglietto per l'evento di Bologna. Chissà. Anche perché organizziamo un bel meeting magari, un bel ritrovo. Quello di sicuro, di sicuro, cavolo. Abbiamo Maxi Zossom. Grazie, grazie per l'invito e che bella giornata, soprattutto la serenità di essere riusciti a prendere questi biglietti, perché io l'ho vista nerissima a inizio mattinata, quando tutto è andato in sold out in pochissimi minuti. Però alla fine, stando ad aggiornare la pagina continuamente, qualcosa è cicciato fuori. Victor Lasl88, sto addirittura pranzando, non sono riuscito a fare un cavolo. Salve! Salve, salve. Io devo dire che ho tutto a Lasvet, perché io ero lì che stavo cristando, perché non riuscivo a prenderli, e lei invece dall'app ne ha preso uno. Tanto io poi ne ho anche due da rivendere, se qualcuno vuole. Oh, fa il bagarino! No, rivendo al rivendo al regolare prezzo di acquisto. Sì, 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 no, ci mancherebbe. No, 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 il bagarino. L'ho presi per il buon Matioschi accompagnatrice, solo che giustamente poi si sono sbloccati nel frattempo i posti migliori, quindi ne ho due che sono tipo a 65 euro l'uno. Sono quelli del, tipo il secondo anello. E comunque... Beh, starebbe a vedere bene, dai. L'unico all'ioci sono stato a vedere Marilyn Manson e Rob Zombie, 2000 e qualcosa. Minchia! Si vedeva abbastanza bene, mi sembra, dappertutto. Sì, va bene. Poi ci sono i ledwall comunque, non è come negli anni 80 che devi guardare il ring e basta. Non lo so! Ma poi stiamo parlando di un palazzetto, quindi va bene, anche andare in piccionaia è comunque un'esperienza vivibile se non si è mai andati a vedere un evento live. Se invece stiamo parlando di uno stadio da football come può essere WrestleMania, mi rendo conto che andare nell'ultimissima fila dove osano le aquile non sarebbe tanto gradito. Sì, allora, praticamente è andata subito sold out, sebbene poi alcuni posti si sblocchino. Magari c'è chi rinuncia all'ultimo oppure li mettono progressivamente sul sito per non ingolfare troppo. Mai capito il funzionamento di ste robe. Li fanno a scaglioni, li buttano fuori per farti credere che è tutto esaurito. Beh, in realtà è un metodo giustissimo, perché tu in questo modo non crei una click war totale e piano piano, tipo uno dice, cazzo non li ho presi, poi ci torna due ore dopo e li trova. Ci può stare. Come siete messi, quindi? Facciamolo nel assunto. Sono tipo dieci. Sto guardando la piantina e ne vedo una decina disponibili tra tutto il palazzetto, praticamente. Irio, come sei messo? Dai, facciamolo nel piloto. Io ho preso due biglietti, perché giustamente, come diceva Victor, prima che li ha presi per Matioschi, anche io ne ho preso uno per Michael, che però poi nel momento stesso gli ne ha preso uno anche un altro amico. Quindi in realtà io ne ho uno in più, ma forse viene il mio fratello, vediamo, o la mia ragazza in qualche modo. Oppure sto più largo io, semplicemente. E quindi li ho presi nella gradinata frontale sud, che è praticamente dietro al parterre, però dovrebbe essere una gradinata un po' rialzata. Quindi non è sugli spalti, ma è dietro le file del parterre. Io, non essendo il mio primo, ma anzi ne ho visti penso una decina, forse anche quindici, tra pay per view e live event, alla fine se avessi potuto andare in prima fila ci sarei andato, però mi accontento anche di questo. Ho provato in realtà, cioè appena mi sono collegato erano disponibili anche i premium package, quelli proprio intorno al ring. Quelli da, quanto venivano? 390, 490? Sì, 395, cioè 400 euro. C'ho pensato un attimo. Ci ho pensato un attimo. Ci sono quelli proprio con... Con la manettina. Mit and grit, esatto. Allora, se avessi avuto la certezza di quali wrestler ci sono e cose simili, avrei detto anche lo prendo. Ti mandano le fettecchie. Se vado lì e c'è Akira Tozawa, per quanto lo rispetti, magari poi ti prende un po' male. E quindi ci ho pensato un attimo, il tempo di pensarci erano già... Cioè, l'ho messo nel carrello, l'ho riflessiato e praticamente c'era il vuoto intorno. E quindi... Poi è stato un casino perché provavo a prendere i primi anelli, li mettevo nel carrello, andavo a compralo e dicevo No, i biglietti non sono più disponibili. Lo rifacevo, stessa cosa. E questo è stato bello, mezz'oretta buona. Max, come sei messo? Allora, siamo riusciti a delegare un nostro amico, io e Michael, per prendere i biglietti. Quindi, primo anello rialzato, alla ovest, e fin qui va benissimo. Il problema è che saremo proprio al fianco del palco, quindi le entrate saranno terribili a vedersi. Vedremo i wrestler di spalle, praticamente, entrando. Li vediamo uscire e poi nient'altro. Mentre invece, per quanto riguarda la visuale verso ring, dovremo stare tutto il tempo girati così. Però, penso che riusciremo a vedere bene, perché dal settore è rialzato, la visuale è ottima nei palazzetti, per andare a vedere il wrestling. Quindi, va bene. Siamo stati anche fortunati, perché, come ha raccontato Chirio, dopo un minuto tutto esaurito, non c'era niente. Io ho anche il vago sospetto che molti abbiano fatto la furbata di bloccare un'intera fila nel carrello e poi andare a selezionarsi i posti migliori con comodità quando si doveva pagare. E per quello non si trovava più niente. Però ce l'abbiamo fatta, è questo che conta. E sono anche contentissimo del fatto che in pochissimi minuti, in pochissimo tempo, ci sia stato questo soldato. O quasi, quantomeno. La risposta del pubblico è stata calorosissima per il primo evento da sei anni in Italia. Ve l'aspettavate? Sì. Io sì. Sì. Io ero pronto a non trovare biglietti, onestamente. Prontissimo. Io sono cinico per natura, quindi non mi aspettavo un calore così forte, non mi aspettavo una velocità così elevata per il sold out, ma sono contento, quindi è bello sbagliarsi. Se non fosse stato così tanti anni che mancavano, probabilmente il sold out sarebbe arrivato ma tra qualche giorno. No, io immaginavo... È affamato il pubblico. Io immaginavo che l'avrebbero riempito, assolutamente, ma non così presto. Credevo che ci sarebbe stata maggior disinvoltura nelle fasi iniziali, per poi accumulare man mano... Io ero quarto e mi sono svegliato alle nove, perché ero sicuro, io me lo sentivo che sarebbe stata la guerra. Ovviamente è merito nostro, è merito della nostra rubrica. Ah beh, chiaramente. Sono nello stesso settore identico di Mike, anello 1, rialzato, sezione B ovest, uguale. Io alla fine a furia di riaggiornamenti sono in platea, ma non pensate che mi trovi nelle file più avanzate, sono molto retrocesso, anzi, probabilmente ci sarà da battagliare per vedere qualcosa durante l'impate. Se succede così, poi lo vedremo a fare il ring announcer. Ma magari, nel finale dei match, mi avete mandato dei video inquietanti, per quanto riguarda l'esperienza in tal senso. Vabbè, cercherò di fare un po' di Royal Rumble, che poi io sono altro. Boh, ma secondo me non è quello. Chi è con me, che poi mi dispiace. Ad esempio, sono stato a un concerto di Rammstein, io sfruttando la mia altezza, vedevo bene anche arretratissimo. Mia sorella non ha visto una cippa, infatti poi la seconda volta siamo andati in tribuna. Boh, io volevo andare per l'atmosfera, quindi francamente non è neanche una questione di quanto vedi, perché si so che è importante. No, capito, però un minimo. Sì, però capito, essendo il primo io mi accontento anche di intravedere, onestamente. Cioè, proprio per l'esperienza. Tra l'altro è un live, non è qualcosa che trasmette. Sì, sì, infatti spieghiamolo al pubblico. Si tratta di un cosiddetto house show, quindi uno spettacolo non ripreso da telecamere che, visto che qui sul canale parliamo spesso di film o serie tv, non è canonico. Quindi tutto quello che succede in una bolla spazio-temporale che sarà concessa solo a noi. A volte potrebbe esserlo. Tipo a volte in carissimi casi ci sono stati cambi di titolo o cose del genere, ma è molto raro. È tipo un per cento di probabilità e quella probabilità se la riservano sempre per il Madison Square Garden, perché anche quando vanno a New York e gli show non sono ripresi, un cambio di titolo possono farlo. Ricordo un AJ Styles che vinse il titolo degli Stati Uniti da Kevin Owens nel 2017 al Madison Square Garden. Quando facevano una settimana l'uno, una settimana l'altra con quel titolo. E quando avvi Gindermal campione da WWE, il resto solo quello poteva fare, quindi. È un po' come quell'evento in cui c'è stato il primo incontro in WWE di CM Punk. Esatto, stavo pensando a quello. Che c'era gente che l'aveva ripreso con il telefono, ma ovviamente non... Però voglio dire, per essere... Cioè, questo io credo che sia un po' un test. L'hanno visto, perché il punto è che non è tanto il sold out in sé. È il sold out per un now show. Cioè, è che magari non era scontato in Italia, perché siamo sempre stati un po' il fanarino di coda. Nel periodo SmackDown su Italia 1, venivano, mi ricordo, erano stati anche a Milano. Oh, non è che siamo mai stati proprio questo grande riferimento. No, beh, dobbiamo ricordare che nel periodo del boom hanno registrato una puntata di Raw a Milano. E quella famosa di Santino Marella, che diventa campione intercontinentale, anche SmackDown. Tutti e tre i show fecero Raw, SmackDown e anche l'ACW, l'unica settimana. E io ho sempre pensato che in realtà per quei tre tapings fossero arrivati anche in ritardo, perché vennero nel 2007, quando il boom si era già concluso nel 2006, un anno prima. Più che altro c'è da ricordare come nel 2004, per esempio, e anche nel 2005, per dei semplici house show comunque spremessero la penisola fino alla fine, facendo cinque o sei date nell'arco di una singola stagione, che è tantissimo, considerando che ora ne abbiamo soltanto uno, nato un po' a caso, aggiungo io, perché è la settimana di Backlash France. Loro dovevano andare a... No, Parigi. Che città è più Backlash? Lione. Loro dovevano andare a Lione, hanno visto che c'era quel buco libero, andiamo in Italia. E possono comunque sondare il terreno. Questo ci dice delle cose, perché si sfruttano la vicinanza con Backlash, magari portano della gente interessante. Sì, anche perché sarà un house show misto da quello che ho capito. Quindi, T.R.O.K. e SmackDown. Allora, è sempre soggetto a cambiamenti, dovranno fare il draft dopo WrestleMania, quindi quello tutto può cambiare. Con il periodo di Lione, magari, non dico che ti portano Cody Rhodes, per l'amor di Dio, magari qualcuno di grosso te lo portano. Ah, secondo me Codice? No, ma Cody verrà. Sono abbastanza certo che verrà, considerando che, incrociando le dita, sarà campione mondiale, quindi... E allora i soldi spesi, cioè, gliene davo anche il triplo. I campioni di solito no, ci sono. Io vi dico, comunque, ho visto degli ottimi match, durante gli house show. Cioè, io ho visto, ricordo a Roma, un Jericho CM Punk, State Fight, che, voglio dire, c'è roba grossa. Un punk che voleva evitare il McMahon salendo sulle impalcature. Esatto, esatto, esatto. Credo fossero. Un misterio, mi sembra, una roba del genere. Cioè, roba bella. Punk e Battista contro Jericho, e non ricordo chi fosse il compagno di Jericho. Perché ho in testa The Miz? Potrebbe essere. In modo un po' casuale. Potrebbe essere. Però sì, ogni tanto sformino. Un po' troppo presto The Miz, per essere il 2008. Ma non mi pare fosse Big Show, perché me lo sarei ricordato, caspita, vista la mole. Era Jericho con qualcuno. Considerate, io vi di anche Ronda Rousey, l'ultimo house show di Firenze, c'era anche Ronda Rousey, per esempio. Con la maglia della Juve. No, non era JBL. JBL non l'ho mai visto dal vivo. No, no, no. Anche se poi, l'house show più leggendario, rimane quello della TNA, in Svizzera, che è passato alla storia. quello te lo invidia veramente tanto. Ma stanno per tanti motivi, la posizione privilegiata, eravamo davvero davanti, cazzo, Kurt Angle, in periodo anoressia, però era Kurt Angle, minchia. Eh beh, io ho visto anche Chris Benoit, Undertaker, i taping di SmackDown. io purtroppo... alla fine, cazzo. Io ti dico che... Dicono Lanscade, ma sai che potrebbe essere? Nel 2008 era possibilissimo, perché era il soldatino di Gerico, nel 2008, nella pera di Michael. È vero, potrebbe essere lui. Dato che non lo ricordo, non era un nome esaltante, quindi forse sì, forse sì. E poi... S5 di Lutz, io sono già contentori. L'amico con cui ero a vedere la TNA, era proprio il gestore del podcast italiano, quindi aveva scritto a Jeremy Boras, ci siamo andati nel backstage, senza pagare un cazzo. Bellissimo. Fato con Rhino, con Velvet Sky, con Suicide. Un culo allucinante. E poi, ovviamente, l'evento del lancio delle sedie, con Booker T che scappa, ma si è maggiore a Melle. Alla fine, la figata è anche poi che in un house show o live event, come lo vogliono chiamare, rispetto a una puntata, vedi sicuramente più wrestling, perché sono match dall'inizio alla fine, c'è qualche piccolo promo, lo fanno solitamente, sono dei promo estemporanei, però alla fine sono cinque, sei, sette match solitamente, uno dietro l'altro. Quindi, ovviamente, i primi, i giobberoni, ce li becchiamo. Quello è poco, ma sicuro. Cioè, i match Tozawa contro Ivar, cose simili, sicuramente li beccheremo. Però, gli ultimi match solitamente sono molto, molto degni. che è comunque bello da vedere live, anche un match tra giobberoni, perché se beccano il pubblico giusto, se beccano il pubblico caloroso che riescono ad incitarli a dovere, riescono a trascinare un intero palazzetto, a far divertire tutti quanti, anche nei match con giobberoni, si possono inventare degli spot allucinanti, assurdi, che nei match più tradizionali non possono e non vogliono fare, mentre invece, per far contento il pubblico, qui lo possono fare e possono regalare una bella sera da tutti quanti. Ah, io mi ricordo, guarda, un Chris Masters contro Psicosis o qualcosa del genere quando vennero a Milano per i taping e il pubblico era impazzito. Comunque, non erano proprio due main eventer, però erano riusciti a coinvolgere, quindi. Chi parlerà italiano di wrestler? Ma io voglio Giovanni Vinci, lo pretendo. Cazzo. Dai! Lui secondo me è proprio perfetto per un house event, visto che è un po' Sì, è la pippa dell'Imperium, quindi dateci. Però per dire, anche un match è un modo di dire, però se i giuberoni sono Tozawa e Ivar, comunque, quando combattono danno abbastanza spettacolo. Sì, 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 assolutamente. Non è che ti becchi giù, cioè, non è che sono giuberoni scarsi, cioè, i giuberoni di adesso sono abbastanza comunque, cioè, ti offrono un bello spettacolo. Non è che... Poi, non dobbiamo partire con la pretesa di assistere ad una WrestleMania, ma dovete anche partire con questo concetto chiaramente, il wrestling visto live è comunque meglio che vederlo in televisione, quindi qualunque incontro, anche Ivar contro Akira Tozawa, è più partecipato. Se lì nel palazzetto con il clima, tutti quanti che incitano uno o l'altro, ci si può divertire, ma assolutamente. Sì, sì. Ma Gargano e Ciampa non si sono mai proposti come italo-americani, o sbaglio? No, di origine, sì, ma non hanno mai fatto il Santino Marella della situazione. Ciampa non si chiama Ciampa di cognome, è il cognome della migliore amica della madre. Lui ha un cognome canadese, mi parlo. Ma credo che sia comunque di origine mezzo siciliana, anche se non è quello il cognome. Ma anche Gargano mi sembra che non sia. Ah no, lui sì, lui sì. Sì, sì. John Anthony Nicolas Gargano, mazza. Tre nomi. Ironi. Era tipo The Sicilian Psychopath prima quando erai Ringo Vonor. Comunque se ce li propongono tanta robettina. io sono anche contento, onestamente. Porca vacca. Ma guarda, in realtà al momento non ci sono restare che se si presentano lì mi viene da dire che merda. Sono tutti comunque cioè è un momento particolarmente felice devo dire. Hanno tutti comunque per lo male nello spazio, per cui diciamo che capita fagiolo. Ah sì, dopo gli anni di digiuno va benissimo. Chiunque arrivi è tutto grasso che cola. No, Victor, devo chiedere il tuo parere su una recente innovazione nelle puntate di Raw. nelle ultime due il filmato di Bronson Reed con lui kaiju che distrugge il palazzo. È una meraviglia perché poi tra l'altro lui ha l'eleganza tipica di certi rinoceronti in una cristalleria. Io lo amo. Tra l'altro io ecco lui è uno di quelli che cercano ogni tanto di spingerlo ma proprio non non riesco. Avevano, mi ricordo, anche fatto qualche settimana fa questo match tipo tra lui e mi pare fosse Ivar mettendo a confronto il peso come dire guardate i due perché ci sono due tipi di wrestler come sappiamo quelli super fisicati e i panzoni quindi hanno fatto questo match tra panzoni puntando sul peso è stato bellissimo. Mi ricordo di proporlo come buono ma non ha funzionato troppo. Io quella cosa la kaiju giapponese degli anni settanta con i palazzi palesemente modellini l'ho trovata meravigliosa. Io godo quando c'è quel tight antrone. Sì e poi ma poi boh ultimamente sia Rock e Smackdown anche quando non sono puntate particolarmente interessanti tipo l'ultima di Raw non è che sia stata niente ricca però aveva quei due momenti dei promo anche interessanti rilassa per cui Vabbè solo per il promo tra Artrute e DIY nel backstage a parte quello ma anche anche questo momento di rottura ormai definitiva in cui gli spezzano il sogno in cui gli mettono ben chiaro che lui non è mai stato e il Judgment Day è stato bello è stato sì 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 ho apprezzato devo dire ma visto che parliamo di Raw si prospetta una certa cosettina credo sulla base del promo e addirittura del trailer di Wrestlemania 40 bellissimo tra l'altro mi è piaciuto molto però io non riesco più a capire cosa vogliono fare proprio a livello di struttura che è un bene cioè che ci vengano così è un bene sarà una cosa che non esclude quella già annunciata magari nella serata prima io presuppongo questo perché a questo punto secondo me se Seth non stava male l'avrebbero già fatta Elimination Chamber magari questo può essere però forse stanno ancora valutando forse ci tengono ancora sulle spine per quel motivo lì cioè Seth io non lo vedo messo così male poi magari è rotto totalmente però nel senso non è come per Elimination Chamber Coddy e Seth avranno già il loro impegno per Elimination Chamber non lo sai? no Grayson Waller Effect in Australia con Coddy e Seth ma c'è stato annunciato? sì 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 ha confermato e magari è lì che potrebbero fare l'annuncio per il match di coppia a Wrestlemania nel segmento parlato di Elimination Chamber che in questo modo mi spiace per i fan australiani ma questo Elimination Chamber come evento è veramente poco carico se ti devi portare nel carrozzone Coddy e Seth soltanto per fare un segmento parlato mi spiace un po' per gli australiani effettivamente o gli preparo un dark match dopo però anche perché io capisco che comunque il wrestling è predeterminato più o meno sai già chi potrebbe vincere però a sto giro non si sono neanche proprio impegnati cioè quando c'è stata quando ci sono stati kick off hanno praticamente già annunciato Becky Viesria rendendo sostanzialmente inutile il match alla Chamber che per l'amor di Dio ripeto ci sta lo capisco però hai avendo fatto vedere loro due che si affrontano hai reso inutile il match femminile di qualificazione per Western Media contro la Real Replay e hai ulteriormente reso chiaro che sarà la Real Replay con la cosa di Nia Jax perché ovvio ma in maniera veramente esagerata perché con loro due che si affrontano è chiaro che Nia Jax non batterà la Real Replay all'Alimination Chamber io capisco che è prestabilito quando è terminato però almeno una pia illusione te la puoi riservare così proprio te l'hanno spazzata via al calcio in culo quindi capito eh ma a livello di sospensione dell'incredulità loro vorrebbero ma magari vince Nia Jax lo so però sai cosa era talmente una cosa chiara ovvio ma ovvio sì anche perché le sta prendendo troppo Ria da Nia troppo troppo ma anche dico un occhio a Liva alla Chamber magari da un buon spettacolo ma vince ma che vuoi che vinca hanno fatto praticamente già il promo per Western Media i kick off facendo quasi dimenticandosi che ci sono ancora le qualificazioni che c'è ma sì ma oltretutto allora vanno benissimo le sorprese potrebbero avvenire però il match migliore che possono proporre è Becky contro Ria ma mani basse ma mani basse non devono fare altro niente da fare con tutto il bene del mondo ma Liv Morgan appena rientrata ma è niente da dire però niente da dire su Liv Morgan ci mancherà niente tante cose ma niente da dire assolutamente non è questa la sede però insomma la Cargill non è dentro la chamber perché non fa parte dei match di qualificazione attenzione però alla Battle Royale magari la piazzano lì e vince ora che ci penso perché non hanno ancora annunciato le contendenti allora forse sì però metterla per perdere ma anche alla Rumble si diceva la stessa cosa ha partecipato alla Rumble è vero però qui la dovrebbero pinnare è vero non sono tutti come Gerico nel 2012 che un calcio in faccia fuori dalla gabbia non è più rientrato quindi sì dovresti schienarla in quell'occasione però continua a pensare che a WrestleMania lei va contro Bianca Belair già alla Rumble hanno avuto il faccia a faccia nella chamber potrebbero avere ancora ulteriori interazioni quindi io me la giocherei diciamo che servirebbe a livello di storyline questo in dubbio non so come potrebbero proteggerla beh ma semplicemente Bianca la distrae in qualche modo si prende il pin quindi lo schienamento sporchino sì pin preso a causa della distrazione di Bianca è nato il match alla fine sì sì probabile probabile comunque sì visto che lo chiedono in chat mancano due match di qualificazione femminile e poi per determinare l'ultimo posto fanno una battle royale tra le varie escluse e altre che non hanno nemmeno partecipato alle qualificazioni ad esempio a Raw hanno già fatto vedere Candice LeRae che non aveva neanche partecipato i match precedenti probabilmente ci saranno tutte sì sì potrebbe avere probabilità di rientrare è vero sarà una grande azzuffata poi vedremo ma quindi voi pensate a Wrestlemania a un doppio impegno per Roman e Cody a questo punto fanno il event di due serate più che altro set non si farebbe il main event cioè sì si farebbe comunque il main event però non per il titolo se dovessero fare il match quindi avrebbero un doppio impegno un po' tutti hai ragione perché comunque tranne The Rock perché la cembre è per andare contro set Roman e Cody e il match è terminato va bene che hanno avuto delle defezioni importanti ma un po' il trionfo del riciclo sta roba qua per quello io non lo metterei a Wrestlemania però io lo metterei anche prima appunto in Elimination Chamber se Seth non ce la fa me lo terrei per SummerSlam magari l'intenzione è chiaramente quella di farla a Wrestlemania però io penso anche a Roman lì legge due match di quella portata in due giorni Seth che torna l'incortuno lo può proteggere però abbastanza più che altro avrei paura per Rollins se davvero infortunato possa far fatica già quello mi mette più dubbi Roman Reigns onestamente il match di coppia poi con il ritmo degli incontri di Roman Reigns che sono mezz'ora di cui dieci minuti se va bene di azioni non stop può tranquillamente reggerlo poi sì l'incontro con Cody della seconda sera sarà quello più impegnativo però il match di coppia con i cambi con un sacco di sguardi intensi un po' come The Rock per dieci minuti fermi forse è più preoccupante The Rock in effetti che ha lo stesso fiato di mio zio Piero dopo la parmigiana domando se lo giocassero in una puntata settimanale lo so che è un po' strano però non credo mi sembra una roba troppo grossa per giocassero in un cioè magari te lo giochi veramente in un evento leggermente minore non lo so quindi dopo domandano come mai questa sicurezza non è una sicurezza però se avete visto Raw lunedì c'è Seth che ha proposto un'alleanza Cody e deve portare da qualche parte questa cosa e soprattutto c'è il promo di Wrestlemania con ste due coppie che si guardano in cagnesco ora è vero che è un promo indicativo quindi si ma già dal preso dal un mood magari voglio dar risalto a un evento che ancora è un po' così come quello a Berlino visto che non è una cosa quindi voi lo vedete dopo sai che cosa magari lo teaserano adesso si rendono conto con alcuni promo che è troppo presto e prima devono affrontarsi Romane e Cody io ragionevolmente siccome Bash in Berlino è un evento ancora da rodare magari magari lo fai lì per dare qualcosa di nuovo anche all'Europa però faccio una previsione alla cazzo nel senso che non ci sono basi io mi aspetto che alla fine di Wrestlemania The Rock ritorni face ah già tu dici mi aspetto che vinca Cody e che lui gli alzi la mano riconosca la sua vittoria perché a me sta stupendo moltissimo il fatto che lui si sta mettendo in gioco da Hill con i palazzetti che cantano Rocky Sax Rocky Sax in questo momento della sua carriera è ben strano mi ricordo un po' Shawn Michaels che divenne Hill contro Al Kogan e finito quel match lì era di nuovo Face a furor di popolo secondo me è un sacrificio perché temeva di compromettere la sua posizione indubbiamente però non ce lo vedo a portarla avanti tanto anche perché comunque in generale non è che ci sia granché da portare avanti in quanto lui finita sta roba qui non lo vediamo più per i prossimi quattro anni quindi nel senso non ha neanche bisogno di mantenere lo status ci penso no no è vero è vero però sai non sarà previsto dopo questo no no ovvio mi dà sempre una strana impressione però è un modo per voltare pagina alla fine magari in cuor suo ha capito l'errore di valutazione ha capito che il pubblico vuole Cody Rhodes a Wrestlemania daranno al pubblico quello che il pubblico vuole Cody Rhodes campione voltiamo pagina torniamo di punto a capo come prima infatti è per quello che ho questo vago sospetto quindi non diventerebbe Face Roman come si diceva però quello è il punto è che tutte e due Face poi come la fai la sfida Face li puoi tenere magari magari puoi fare questa sfida in maniera perché tipo all'esempio se come si pensa Roman Felton Face tu la puoi giocare come una questione di onore tra virgolette quindi loro due The Rock e Roman sono gli ill della situazione ma gli ill più onorevoli non quelli cattivi un po' arredenti attenzione poi magari Roman e il un altro anno comunque c'è tutta la questione di solo che secondo me svilupperanno io ne sono convinto sì può essere potrebbe anche darsi che lui si prenda un po' di pausa e nel frattempo la bloodline come come previsto va in mano magari se io non penso che faranno perdere Roman la cintura e poi quando perché prima o poi dovranno farlo sto match Roman Roman The Rock sì però non credo che perdere anche la collana magari nel frattempo lui si ritira temporaneamente anche come Tribal Chief e ti portano avanti per qualche mese la storyline con Solo con la collana perché lui l'erede designato che manda puttane completamente la bloodline con lui che torna da Face per rimettere le piedi puoi fare anche una cosa però anche con Solo la situazione va risvegliata lui da Crown un giorno da quando aveva battuto John Cena ha perso ogni incontro che è l'erede per diventare il capo tribù ma non ha più vinto un match quindi boh non lo so può essere anche tipo lui che usurpa non è che usurpa perché teoricamente gli spetta il diritto ma lui che si rivolta contro Roman dopo che ha perso perché non lo ritiene più in grado di gestire la bloodline questo si ritira sconfitto in tutto perché la bloodline non è più sua e poi torna e da lì penso che lo rivitalizzi un po' solo si cosa diventa il tribal chief della bloodline si spera comunque eh niente io sto tag team match non so dove piazzarlo ad ogni modo eh io Wrestlemania io non vedo altri posti se non Wrestlemania il promo il teaser trailer tu dici indicativo secondo me è uno spoiler gigantesco è evidente quel promo di Wrestlemania però come come lo rendiamo appetibile a livello di narrazione nel senso è ovvio che sia un match di per sé esaltante però dovrebbero affrontarsi in tag per niente se la sera dopo hanno già dei match programmati tutti vabbè sarebbe semplicemente la corporation contro i ribelli della la questione è l'onore c'è semplicemente c'è poco da fare la questione è l'onore e dobbiamo anche mettere in conto che ragazzi questo non era il piano originale della compagnia The Rock si era messo in testa di tornare e sfidare Roman Reigns nel main event di Wrestlemania non è che la bomba si è scoppiata in faccia e sono costretti quindi a cambiare in corsa io cerco di spiegarmi perché leggo debellare la bloodline perché si odiano ragazzi noi stiamo ipotizzando due sere di Wrestlemania dove c'è un riciclo di atleti stiamo immaginando che nella seconda notte ci sia Cody contro Roman e Seth contro capiamo chi secondo me Drew io spero ma comunque questi avranno dei match per il titolo ok già delineati perché la sera prima dovrebbero affrontarsi in tag ho capito che si odiano ma cosa ottengono perché dovrebbero stancarsi per la sera dopo cosa qual è il punto vincono Cody immaginare è ragione vincono Cody e Seth e quindi il punto è che The Rock un match deve farlo e il ripiego migliore per fare un main event di Wrestlemania dare anche a Seth Rollins aggiungo io un main event di Wrestlemania che lo avrebbe avuto assicurato se non si fosse infortunato sia in Punk è questo incontro di coppia che narrativamente non ha una ragione una posta in palio ok però è il ripiego migliore che tu possa fare per uno far combattere The Rock in questa Wrestlemania perché ormai c'è deve lottare e due dare un main event a Seth Rollins e che io sono ancora convinto che facciano il triple threat no secondo me no io lo escludo arrivati a questo punto cioè l'avrei potuto pensare prima ma arrivati adesso hai un match già annunciato con tanto riposte che per amor di mio quello è vero ormai sempre più l'odore del del tag team un triple threat per me non ha il minimo senso ora come ora allora secondo me avrebbe avuto senso se non avessero già annunciato Cody contro Roma ma adesso che l'hanno annunciato ok che può saltare però Bursi più che altro ci sono anche dei cambiamenti dell'ultimo secondo tipo WrestleMania 30 dove era Randy contro Battista e poi all'ultimo oh cazzo no no facciamo che c'è Daniel Bryan che arriva io non so se Triple H possa possa sopportare un match perché in quel caso potrebbero fare un The Rock contro Triple H a Breast & Man eh quello non sarebbe male per nulla qualche cosina l'hanno lanciato quindi potrebbe starci soprattutto Triple H nell'ultimo Smackdown con quel promo finissimo quindi non so però lui se riesce dopo quello che ha avuto ultimamente da quello che ci dissero nel 2022 lui ha un pacemaker non potrebbe farcela quindi però il suo inserimento in storyline è importante il promo Smackdown ma anche nel finale della conferenza stampa quella di Las Vegas con The Rock che va faccia a faccia con Triple H risolvi il tutto o ci penso io eh sì è presente è impattante però stiamo a vedere o Triple H che sceglie un suo pupillo da mandare contro The Rock lui sta nell'angolo perché se no c'è anche l'idea che qualcuno diceva prima in chat di fare magari questa tag team match in Arabia Saudita perché lì gli buttano davanti 800 milioni di euro sì tra l'altro leggo Seth deve avere il pin vincente se lo fanno se questo tag team e il main event della prima sera vincono gli Hill al 100% se no non ha senso la sera dopo scusate se Cody e Seth sono già vincitori la prima sera e la seconda sì sarebbe ancora più la rivincita poi la sera dopo quindi c'è anche questo da mettere in conto e a maggior ragione non mi convince perché anticipi ancora di più il risultato della seconda sera no ma poi a parte Cody e Seth comunque non è gente che possa supportare due match probabilmente così vicini rischi io di romperli rischi di farli arrivare spompati non mi sconfinfera ma non ti sconfinfera perché hanno fatto un casino allucinante è quello sì sì no non sta dicendo impossibile che lo facciano ci mancherebbe e che non riesco a visualizzarlo arrivati ad oggi hanno fatto un tale casino per questo non ti sconfinfera perché hanno fatto un gran casino tutto lì ma secondo me vincono i face perché Cody vuole umiliare la bloodline ho capito ma Roman perde due serie di fila devi fare un equilibrio lì eh quello è vero è un po' ed è anche difficile da dire pinna a drog no ma ma oltretutto se vuoi creare una struttura drammaturgica la prima sera vincono i cattivi e la seconda si redimono i buoni quindi una vittoria ancora più trionfale sofferta altrimenti se dimostri la supremazia di Cody la prima sera la seconda vabbè si vince certo magari anzi fai pinnare Cody da Roman certo tutta la vita ma tutta la vita boh non lo so vabbè comunque troveranno un modo evidentemente sì vabbè vince Seth Rollins che pinna Reigns e il senso? no al senso che ci trova Gabriele il fatto di voler mettere il titolo di Rollins al pari di quello di Reigns dare dignità al titolo mondiale dei pesi massimi ma è incasinato è incasinato e anche io sono d'accordo se fanno due match prima i Samoani e poi Cody nel main event quindi depotenzi la vittoria di Cody la sera dopo perché anche Seth ha schienato Roman la sera prima magari puoi farla questa cosa di mettere alla pari il titolo di Seth più avanti in qualche altra fai in qualche altro modo che poi sia stato sminuito sono d'accordo non sono convinto beh aspettate a livello di a livello di star power notorietà degli atleti coinvolti questo main event lo schiaccia semi e Kevin contro gli Usos probabilmente a livello di qualità del lottato no ci mancherebbe ma caspita insomma credo sia il meglio che la federazione è ad offrire in questo momento termini di star power sì ovvio quindi un attimino quindi Seth la sera dopo vince contro U e in questo grande disegno sì perché se perde due serie di fila è veramente schiacciato no io per Seth non la vedrei così tragica anche se dovesse perdere due serie di fila ha già dimostrato lui che riesce tranquillamente a sopportare ma la soluzione la soluzione sotto i nostri occhi non l'abbiamo preventivata e lui magari di Bologna sì 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 è vero io su Seth su Seth non vedo così probabile una sua scuola anche perché lui è quello infortunato che però si riprende per questo media ha mostrato un onore incredibile nel mettere da parte le divergenze contro con Cody ergersi a difensore addirittura appaventare un tag team per poi perdere così boh mi sembra un po' stasco ma è un po' presto poi se dovesse succedere perché si accorgono che l'infortunio è un po' più grave del previsto e che forse non si riprende subito io sono anche contento perché il McIntern mi sta piacendo tantissimo negli ultimi mesi lo stanno valorizzando molto di più è uno dei personaggi migliori al momento è un carisma che è allucinante questa cosa boh a me lo so che sarò stupido a me sta cosa della maglietta di me mi si è in punk e fa ridere ogni volta non mi basta mai so che è tra le più vendute non mi basta mai ogni volta che le indosso ma no ma poi mi piace perché a me piacciono gli heel un po' più sfumati non è un heel che ti fa dire mamma mia non è Damien Priest che è proprio il cattivo da fumetto che gli manca solo il mantello per scappare capito è proprio un heel anche se Priest mi piace questo questo dimediamento interiore nel pestare Artruth perché si vede che lo fa più per non sfigurare con gli altri che per mera antipatia cioè forse per lui lo metterebbe nei judgment day ma però come cattivo è sempre quello un po' adesso ti spacco il culo Drew invece è uno scazzato perché dice andatevene a fanculo i pochetti di merda e c'ha sei o sette nemici sì poi leggere che sia quasi tweener ormai Drew è il al mille per mille è mille per mille però è uno di quegli il un pochino più ragionati capito non è la nostra tra di male da operetta cioè per intenderci non è Demiz quando era il no 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 ha le sue ragioni si è proprio persa la figura del tweener ha le sue ragioni però nel momento in cui attacchi i punk infortunato attacchi tutti alle spalle ormai è fatta però capito è un il che mi piace cioè sono quelli che è bello ti fare perché comunque sotto pensi però non ha tutti i torti a tal proposito vittoria di Nakamura lunedì dagli da qui parte la rinascita sicuramente su Sunny Jane per l'amor di Dio la rinascita per tornare a Tokyo su Sunny Jane neanche in formissima io nel 2024 voglio giustizia per Nakamura un titolo di merda anche boh quello delle patatine dateglielo è troppo bello cosa può prendere o un tag team con qualcuno ma non credo ha già dato da quel punto di vista però non lo eh sì esatto però non lo so il United States è troppo figo perché l'Intercontinental non penso proprio cioè dai non credo che dipende chi vince dopo Gunther vero però il problema è che per andare per vincere contro Gunther secondo me prendono uno spesso ok è Nakamura Nakamura che vince il titolo contro l'ospensione di turno che è quello che ha elettronizzato Gunther non lo so lo vedo più se fosse utilizzato bene potrebbe King of the Strong Style quindi insomma riuscirebbe magari forse più lui che batte Logan Paul cioè ci deve arrivare però una persona del genere potrebbe già essere migliore Gun Paul non so se esce vivo da Wrestlemania no infatti no perché vabbè perché contro contro chi va scusami secondo me è Lay Knight però anche per me ah giusto sì però se non è Lay Knight continua la fai da con Owens ma comunque il titolo lo perde il titolo lo perde perché non no nel senso che perde la cintura poi c'è sempre l'incognita priest che in chat chiedono e io è il mio tormentone per me lo perde non incassa una cippa no fallisce ma come abbiamo sempre detto potrebbe essere e anzi secondo me dovrebbe essere il motore dell'implosione definitiva di Jasmine Day che hanno anche tipolato i trequarti di minchia per se lo chiedete a me fanno sempre la stessa cosa entrano cattivi siamo a Bedess picchiano our truth fine ma anche qui ovviamente il tentativo di incasso lo vedo su Rollins o McIntyre perché la vittoria di Cody la seconda sera deve essere bella liscia ma poi hanno sempre l'indirizzo dell'incasso non è mai stato ulteriore all'heavyweight quindi prima notte perdono le cinture di coppia seconda notte perde il money in the bank ma anche perché l'ha detto Christ nel quel promo che fece disse il mio show erro io incasso su set che in questo momento è infortunato praticamente quello che è successo a Vengeance con Trick Williams e Carmelo uguale perdono in questo caso le cinture e dopo c'è c'è il tradimento o comunque un'ulteriore sconfitta perde anche Rhea sia WrestleMania al Judgment Day deflagra mia previsione il fatto che Prist fallisca l'incasso io non continuo non sei sicuro no 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 anche perché con Rollins che dopo WrestleMania potrebbe prendersi una pausa che merita per riposarsi guarire dagli infortuni tutto quanto e continuerei anche con l'ipotesi di Drew che viene costantemente fregato dalla vita quello è vero ogni cosa che fanno riesce poi fanno una faida con Drew Drew e Prist ma allora non avevo considerato Rollins un po' a mezzo servizio e che l'hanno già fatto tantissime volte quindi ciò che sto per dire non ha il ben che minimo senso ma Prist non mi sembra pronto ah ah fa ridere perché c'è gente che ha vinto in modi improbabili avete ragione Jack Swagger alla cazzo dei cane grandissimo c'è da dire che si sono un po' evoluti ormai cercano di pensarla vagamente meglio e poi tecnicamente Swagger non era malissimo secondo me era come personaggio che faceva cagare leggo due incassi falliti di fila non so se la WWE si accolla questo seppellimento della valigetta ma perché seppellimento ci sono stati due anni di fila in cui il vincitore della Rumble non vinceva WrestleMania ma questo è più un seppellimento il contrario cioè il fatto che tu la fai passare come una cosa che automaticamente se vinci il Money in the Bank devi vincere il titolo cioè lì diventa un seppellimento perché gli togli tutta la la magia dell'incasso allora dagli direttamente il titolo senza fargli fare l'incasso della valigetta no è più che si è ormai perso il fattore pericolosità nella valigetta lo capisco quando dicono così in chat si è perso il fattore pericolosità di chi incassa la valigetta complici incassi terribili come quello di Austin Theory l'anno scorso e incassi falliti in generale però rimango scettico sull'incasso fallito di Prist vedremo quello che succederà no no leggo anche che ha 41 anni ho capito ma non è che debbano vincere tutti il titolo mondiale in carriera può anche vincere incassare con successo fare un regno mediocre ok e non vedere mai più la cintura come hanno fatto tantissimo che a me lui sembra un onestissimo Midcarder nel senso che è molto credibile però se non diventasse mai campione per me lo merita boh io ho una lista di almeno 10 che se lo meriterebbero prima posso dire che anche se vincesse in realtà trovi il modo potrebbe essere allo stesso modo un motore per fare il giudice lui che inizia a menarsela fin bene gelosissimo anzi forse addirittura potrebbe essere più interessante vedere il giudice che implode con lui campione per vedere che implode per le invidie forse ancora meglio che per la sconfitta ha ragione Victor su questo nel senso lì il titolo va visto più come una chiave di storyline che ovviamente non sto dicendo che non andrà bene specie se Wrestlemania Judgement Day viene distrutto su ogni fronte titoli di coppia persi Rhea perde la cintura Dominic se avrà un match Priest però nel casino nel marasma generale a sta valigetta la incassa fa all in ed è sempre meno cattivo è sempre più in mano degli altri è quello che non vuole pensare a Truth sì ma infatti il face è lunghi in futuro sì sì quindi il fatto che lui abbia il titolo e questi magari gli danno contro potrebbe agevolare il current face che io vedo imminente lunedì ha vinto anche JD ma che nottata magica sai che quel match mi ha sorprendentemente fatto incazzare mi ha rovinato il sonno mi ha dato proprio fastidio sì perché sì perché JD ovviamente è fatto apposta e lui è anche molto bravo nel mantenere questo personaggio è talmente un inutile coglione che a me vederlo vederlo perdere in quel modo oltretutto contro il Truth che sull'ottato è 80 spalle sopra grazie a cazzo c'è anche 30 anni in più per l'amore di Dio quindi ha anche un'esperienza diversa mi ha infastidito mi ha proprio innervosito cioè non aveva senso innervosi perché era un match così ma li ha fatto incazzare non so perché tantissimo ma invece sono stato in parte contento per lui perché poverino è il punchy ball del judgment day una vittoria ogni tanto no 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 quelli sono quei personaggi che devono andare sempre più a fondo finché non trovano la pietra da scavare capito non sono d'accordo nel dargli il contentino no deve deve finire malissimo quel personaggio ah sì è vero per fortuna è arrivata la DX a salvare sono arrivati Shawn Michaels e Triple H per fortuna che meraviglia stanno tirando fuori dei promo geniali con Artruth veramente bellissimo ma lui è un tesoro lui è oro nel comedy è fantastico ma Bobby Lashley mamma mia Lashley a Wrestlemania ha già la sua faida pronta e che faida con Kerton The Last Testament madonna final final ma nel presso spero The Pride versus The Final Testament ma anche qui su questo sono sicuro ovviamente i match sono intercambiabili nelle varie nottate ma la prima sera avremo Lashley contro Outdoors of Pain e Zozzeria la seconda la faida tra latinoamericani quindi si il figlio del fantasma versus LWO quindi dei match di gruppo tra l'altro se all'house show di Bologna dovessero entrare il Final Testament io vado in bagno a fare una cagata lunga guarda che probabile secondo me probabilissimo per un quarto d'ora non esiste non li voglio vedere che coglioni voglio vedere Ellering lui è una leggenda dai ho capito però è veramente ci va il manager dei Legion of Doom dai e tutta io ti giuro ogni volta che entrano si sembra di riuscire a sentire il del pubblico non ci siamo non ci siamo arrivati Victor ma a un certo punto per motivi oscuri ai Legion of Doom venne associato un pupazzo tipo Sleppy di piccoli brini ah si 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 chiamato Rocco si mi ricordo di questa cosa che devi fare così piaceranno anche i bambini è l'unica che strategia di marketing incredibile io voglio io voglio il ritorno di Rocco ma io spero di no c'è anche la in discarica quindi torna tutto maciulento tutto distrutto per cercare la giustizia madonna magari si carano dei cartoni di LSD importanti e potrebbero fare io lo farei se mi prendono come booker tu hai citato il legato del fantasma ecco quella è una stessa che a me non dispiace sono anche loro i cattivi da fumetto Marvel anni 60 mi piacciono molto sì mi piacciono abbastanza nel promo di Andrade cosa ne hai pensato a me è piaciuto non è stato male sì è che non so dove collocarlo è più quello secondo me avreste male da nessuna parte da Raw successivo se ne parla non hanno ancora finito ma la chamber non c'è non è ma non c'è spazio per qualcosa non c'è nessuno non c'è uno spazio ah tu dici in generale nella card sì nella card siccome non hanno ancora finito diciamo uno almeno un match ancora te lo devono annunciare sì penso anch'io meglio scegliere meglio Wrestlemania che elimination chamber nel senso saltiamo tranquillamente l'evento australiano se si riesce ad infilare la Wrestlemania tanto di guadagnato però non so perché alla fine alla Royal Rumble hanno fatto capire alla Royal Rumble hanno fatto capire che potrebbero far qualcosa con LWO legato del fantasma ha avuto il faccia a faccia con Santos ed è finito tutto a terra luce e vino vediamo mi fa un po' ridere che a Smackdown chiunque arrivi e sia latino finisce in quel ghetto famiglia 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 per sempre però anche un po' basta perché non puoi avere non hai veramente ambizioni se sei latino a Smackdown soltanto famiglia 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 come mi ha fatto notare qualcuno è come quando si è giapponese che diventi o un ninja o un un pirla come Tozawa poverino però a parte Tozawa se ci pensi tutti i giapponesi c'è Nakamura che sembra il personaggio di un manga guarda caso al momento il tag team femminile è detenuto dalle Kabuki Warriors insomma c'è una forte tradizione e lunga di giapponesi pirla sì 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 appunto che in Giappone era un grandissimo è diventato venuto a fare l'imbecismo c'era quell'altro che era Kenzo Suzuki avevano fatto la storia line dell'action figure distrutta come cavolo si chiamava mamma mia sì ho capito Yoshitatsu Yoshitatsu l'irreprensibile Yoshitatsu mitico Yoshitatsu Kung Fu un po' di dignità cazzo è vero Kung Fu Naki Kung Fu Naki durante l'uscita di Kung Fu Panda Kung Fu Naki che roba orribile Jimmy Wang Yang era geniale perché era un giapponese cowboy il redneck poi c'erano quelli finti anche c'era quello che poi fa l'allenatore a NXT come si chiamava quello che faceva Albert anche ah Tensai Tensai anche il giapponese Tensai con il fantastico Sakamoto sì 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 il giapponese finto più famoso Yokozuna Yokozuna sì sì lui però era un gran vrestre a parte tutto no no assolutamente però però non era giapponese decisamente arriva a dire l'ignoranza della conoscenza dei popoli asiatici ma oltretutto in modo palese perché non aveva quei tratti Samoani da bambino ci credevo anche io per forza si credeva anche a Kenny Undertaker fratelli quindi ah perché non lo sono eh no purtroppo ho visto il cuore distrutto di Matioschi io vorrei ricordarvi quando facevano la rubrica sui sui ppv quelli del passato che di russi veri ce n'era forse uno sì sì erano tutti americanissimi con un accento grandissimo Nikita Koloff ce l'ho nel cuore sembrava com'è che si chiama quel personaggio quello tutto peloso con la clava di Anne Barbera non mi ricordo sembrava quello quando parlavano un cazzo tra l'altro i giapponesi hanno sprecato anche gente come Kenta voglio dire cioè liberamente c'era il potenziale per una super megastar eppure e se poi vedi quegli stessi presto quando erano magari in NGPW federazioni del genere cioè ti capisci proprio che quando escono da lì e vanno in accidente tendono a perdere una bella fetta di dignità che giustamente pur di far parte di realtà così grandi accetti quello che ti danno il problema è che quello che ti danno cioè la ghettizzazione secondo me non è solo nell'LWO o nel legato del fantasma per i latinoamericani ma è anche per gli asiatici cioè pensa anche a Xayali c'è Cristo e Katana di Mortal Kombat una roba tremenda cazzo è cinese facciamole fare la Mulan della Mutua comunque dai è anche wrestling comunque nel senso è wrestling me ne rendo conto che se non sei americano vai a piazzarti in quello stereotipo capita poi c'è gente che pur non essendo uno stereotipo che cammina su gambe secondo me Nakamura alla fine ha assunto una dignità tutta sua negli ultimi mesi Nakamura è contentissimo Nakamura adesso piglia una barca di soldi può andare a fare surf tutte le volte che vuole in America è contentissimo non gli manca niente a quell'uomo c'è da dire però che lì secondo me hanno fatto anche una cosa intelligente perché è uno stereotipo ma è uno stereotipo estremamente attuale che funziona cioè lui è veramente il cattivo di un anime e gli hanno fatto anche i segmenti con l'animazione che però non era l'animazione giapponese a vederla era l'animazione con dei tratti quindi secondo me ci sta cioè ha trovato la sua dimensione ma è figo sì è molto figo poi secondo me il fatto che lui parli pochissimo inglese gli fa anche gioco il fatto che lui faccia il promo in giapponese lo rendono veramente minacciosissimo poi è completamente pazzo a me piace il fatto che ogni volta che perde non sembra non fregargli ne più di tanta cioè lui vince no no lui riparte questa è la cosa bella un treno che va avanti anzi cioè quando lo vedi sconfitto che tipo ti guarda con la mist che gli cola e ride anche se è stato sconfitto tu dici questo non ha perso veramente capito cioè non è sconfitto neanche nella sconfitta è questo secondo me che lo rende strepitoso poi secondo me spesso siamo veramente più noi fan che ci facciamo le mille per noi e questo non ha vinto il titolo di qua e di là a lui la barca di soldi che prende voglio dire fa surf come diceva Max meglio di così tra qualche anno ritorna in Giappone è a posto magari chiuderà la carriera in New Japan però alla fine si è fatto una barcata di soldi che non avrebbe fatto diversamente cioè era pagato bene ovviamente anche in Giappone però penso che stia prendendo qualcosina in più come ti paga la WWE penso nessuna neanche infatti che poi correggetemi in caso io stia sbagliando ma non è che in Giappone anche Nakamura fosse inteso per essere la big star indiscutibilmente certo bravo tenuto in considerazione ma non troppo da quello che sapevo quindi ha fatto comunque benissimo a tentare di andarsene da altre parti in America ottenere molta più visibilità e molti più soldi ha fatto benissimo soprattutto a me sembra che il pubblico sia estremamente partecipativo quando esce lui perché è uno di quegli che si fa una gran fatica a odiare perché comunque ti ispira simpatia sembra completamente pazzi quando ha fatto la puntata di Natale di Raw in cui c'era lui che leggeva con quell'inglese improbabilissimo la storiella in rima in stile Dr. Seuss si bravo American Night before Christmas esattamente cosa cazzo gli vuoi dire non non si può ma anche contro Samiselle l'altro giorno che è arrivato a sorpresa io quando vedo che prende di mira qualcuno nuovo sono sempre contento perché chiede perché poi non è che fanno lo sforzo di mettersi chiesa cosa è sempre lui che dice ti distruggerò ti ammazzerò e funziona sempre comune il fatto che non abbia un criterio con cui scegliere le sue vittime è bellissimo è vero che sono tornati a cantare la sua team song ma perché cazzo è una team da buono quella lì non c'è niente è una team della Madonna buono cattivo è fantastica è bella è proprio da buono quando arriva dici la miseria infatti la team song gliel'avevano cambiata nel 2018 mettendo le parole cantate in giapponese per far in modo che il pubblico non la cantasse per dar fastidio mi piaceva un sacco la versione in giapponese era molto bella amarrissima anzi dopo me la risento ishita ishita e il pubblico non poteva più cantarla in questo modo come Robert Roode si tra l'altro che film ha fatto con Uomo non so se era infortunato tre anni fa non è più tornato è tornato e ti ricordo che nel Rambo è tornato Homos quindi tutto può succedere ah attenzione Ma Uomo se ne era mai andato sempre nei nostri cuori si esatto fa il producer si praticamente stava un po' stretto secondo me nei nostri cuori però perché alto sei metri quella è una mezza occasione mancata in WWE mannaggia rude che rude secondo me si vabbè ma lo distrussero nel main roster nel momento in cui questo ha la team song glorious gloriosa ed è buono ma che cazzo è è assurdo sì era proprio assurdo io aveva regalato tanto comunque ha avuto la sua bella carriera con producer però scusatemi è tipo un writer quello che produce i match no no non proprio writer non proprio writer si mette d'accordo con gli atleti per intavolare gli incontri ah ok scusate non sapevo di questo ruolo per fare in modo che nella stessa sera tipo per farti capire per fare in modo che nella stessa sera non ci siano due match che finiscono alla stessa identica maniera ok i producer si concordano e no tu faccia con questo facciamo quest'altro è il coordinatore organizzano gli incontri organizza gli incontri si se tu vedi ogni tanto escono quelle sheets della puntata tipo le scalette delle puntate dove vedi che ci sono scritti tipo rude contro Nakamura e a fianco c'è scritto producer appunto Jason Jordan o un altro Jason Jordan anche Tyson Kidd alla fine adesso si è messo a fare il producer lui molto per le donne se non ricordo male Tyson Kidd lavora a stretto contatto con le ragazze sì esattamente allora vediamo se ci sono delle domandine vediamo un po' sì i birmone i fantastici eh ma anche l'altro come si chiamava James Storm James Storm anche lui andò in NXT mi sembra era in condizioni vietose però pochissimo però faceva due apparizioni letterali sto cercando di trovare domande Nakamura ha 43 anni aspetta che qui le devo pescare ah quindi ipotesi di booking sul lungo termine dici quindi Priest vince il titolo rivalità 3 Priest contro Balor contro Drew con la vincita di quest'ultimo che schiena Priest per colpa di Balor può essere io farei Balor contro Priest diretto più che rivalità forse per allungare un po' il brodo questo match questo triple threat ci può stare in un pay per view sì si può fare sì Lashley tornerà ai piani alti in WWE boh dipende per quanti anni rimane sotto contratto forse per celebrarlo un ultimo giretto titolato se lo può anche fare ai suoi anni comunque io lo vedo Midcarder va benissimo lì con un'altra capatina se la può fare ogni tanto delle prospettive ad esempio nella chamber l'hanno infilato perché è sempre credibile fisicamente alla fine lui il regno della vita l'ha avuto la rinascita che hanno fatto con lui con MVP è spettacolare nel 2021 come onnipotente hanno fatto un centro incredibile con Bobby Lashley e quello è il suo regno della vita il regno che aveva già dovuto avere diversi anni fa quindi la soddisfazione se l'è tolta Boroborobon Bronbreaker prossimo Poleman Guy secondo me sì ma dopo l'ultimo spettacolo ce lo vedo tanto anche perché c'è stato quel momento in cui l'ho visto ecco quello sì che è uno che discende da una famiglia nobile di Vrester quindi secondo me lo sta già lumando per quando perderà Roman Reigns sì anche perché non è il massimo al microfono Bronbreaker da quello che mi sembra ha bisogno di uno ha bisogno di un manager diciamo che non ha non ha la favela dello zio e la sua capacità nei calcoli matematici allora sto leggendo quello che pensavo anch'io ovvero Punk il problema è che si è infortunato sto cristiano quindi rallentano i piani però sai un Bronbreaker affiancato a Heyman è un bel modo per come transizione è un bel modo secondo me per farlo crescere perché comunque ti dà carisma di riflesso Heyman poi magari passa Punk dipende quando Punk diventa Hill perché in quel momento Heyman arriva se Punk non fosse infortunato questo tornava cattivo ed Heyman lo mettevano da lui Heyman lo mettevano da Punk però secondo me nel frattempo potrebbe essere un piano B di ripiego temporaneo abbastanza buono perché comunque dopo Wrestlemania penso che si ritroverà senza Trebal Chief dovranno andare da qualcun altro quindi in attesa che Punk guarisca e poi lo mettono con lui sì è che Bron mi sembra quasi Face ultimamente sì anche a me c'è il tempo per fargli fare il torno attenzione verissimo da qui a perché la coppia la coppia ad NXT con lui e Baron Corbin piace bellissimi e si splittano il Face e Bron sì anche nei segmenti a Smackdown ha una faccia abbastanza pulita cioè non è che va lì cattivo però capito c'è tempo per fargli fare un turn importante magari è un turn che avviene proprio a causa di Paul Heyman che inizia a tentarlo magari fanno qualche settimana con Paul Heyman che lo vuole convincere lui che non vuole nel frattempo gli fa iniziare un feud con qualcuno e alla fine cede al lato scuro perché no non lo vedo come una cosa così improbabile onestamente no no non c'è niente ed improbabile in realtà ma nel resting non è in effetti anche perché soprattutto a The Nexty vedo che gli orientamenti morali cambiano con grande disinvoltura sì è sempre stato così guarda Carmelo sì ma quello è già costruito e che nell'ultima puntata Obafemia all'improvviso è diventato Face all'improvviso è andato Alexis King contro di lui voglio la cintura no io sono il vero re ma tra l'altro mi sembra che The Nexty negli ultimi mesi sta un filino migliorando a me piace molto mi dice un buonissimo show sì 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 però non lo so a me piace piace davvero molto secondo me le storyline sono gestite bene sono ben passate a volte magari sono più incattati perché si devono far vedere però alcuni vedo che vedo che alcuni match sono un po' non so io a volte lo seguo con più piacevolezza rispetto a Ro ad esempio a livello di lottato sì chiaramente ti manca lo star power ti manca per essere il territorio di sviluppo quindi sì per un'altra cosa Max il problema è questo che è il territorio di sviluppo è vero però mi sembra che con l'importanza che gli sta andando ultimamente sta diventando sempre di più un roster a parte cioè ce ne sono alcuni che dovrebbero palesemente spiccare il volo ma che non fanno come diciamo le altre volte non li fanno andare via perché altrimenti chi cazzo te lo segue più quindi li tengono lì ma secondo me sono già pronti da un po' e allora mi viene leggermente meno il senso del territorio di sviluppo perché alcuni sono lì che devono imparare ci sta però altri siccome hanno risalto allo show li tengono a NXT quando palesemente dovrebbero è la durissima natura di essere comunque uno show che va in onda in televisione è quello il problema capito dovendo comunque ricevere dei ratings essere visti da più persone possibili è ovvio che ti devi creare un roster un minimo forte per trascinarti lo show e quindi ogni tanto si aspetta più del dovuto per farli andare nel mio roster ilia Dragunov ormai non ha veramente più un cazzo di senso in NXT è ancora campione quindi sì no certo non per molto non per molto io vedo vedo il match con lui e penso ma questo è un livello super è sprecato lì cioè sta diventando più che uno sviluppo il sviluppo sta diventando uno spreco capito ma infatti appena perderà il titolo perde il titolo sarà nel main roster quello è ovvio perderà stand and deliver infatti io sono sono ancora sono ancora qui che spero che vada contro Gunter io sono ancora qui che faccio è anche vero che alcuni che funzionano benissimo a NXT quando vanno nei roster principali non sanno che cazzo farci è un buon esempio di uno che dopo NXT è stato gestito bisogna dire che adesso con Triple H di solito c'è un passaggio un attimino più ragionato prima erano ma più che altro perché adesso Triple H e Michaels riescono a collaborare bene sono in contatto sanno cosa pensa l'uno dell'altro con i vari show una volta con Vince McMahon nel main roster si vede Nakamura che arriva nel main roster e chi cacchio è sto giapponese facciamogli fare i segmenti del cacchio chi è Bobby Roode rendiamolo buono si creava un cortocircuito il problema è tipo ad esempio guarda Corbin Corbin lo hai dovuto poi rimettere in NXT perché in NXT rigiallina anche insomma i personaggi che secondo me rendono rendono in NXT perché in NXT hai più spazio di manovra evidentemente io Corbin lo lascerei lì a vita sì anch'io perché non era già roba da main event prima cioè nel roster principale ci hanno provato ma no è che nel main roster lo usavano come capro espiatorio più di una volta vi ricordate nel 2018 quando dissero gli ascolti sono bassi perché Corbin è al potere ma che cazzo vuol dire cosa vuol dire hanno usato Baron Corbin come scusa per gli ascolti bassi è assurda come situazione però io ricordo mesi fa che lo sprechi anche se lo mandi e gli fai fare uno squash in sette secondi netti ma non per modo di dire sette secondi è tipo stabilito il nuovo livello questa è una bella domanda se poteste portare una star e i W in WWE quale scegliereste io vado su MJF MJF regà eh sì eh sì sì stavo per dirne un altro ma il personaggio più WWE di tutti è quello sì con la massima libertà contratti eccetera MJF per forza anche un Orange Cassidy secondo me funzionerebbe sì è vero lo sprecano secondo me poi secondo me se dobbiamo parlare di performance in ring Will Osprey che hanno appena assunto lo passo ciao Will Osprey è eccezionale è veramente eccezionale ciao sto recuperando l'evento di settimana scorsa il pay per view io mio cioè io continuo a pensare che a livello di lottato sono abbastanza inarrivabili al momento anche perché sono fuori di testa cioè accettano di fare delle robe io ricordo a full gear di qualche mese fa che a un certo punto hanno graffettato una faccia con i figli con i figli scusate con i disegni del figlio e li hanno graffettati in faccia sì 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 di che cazzo sto parlando è una roba che comunque nelle indie potresti vedere con facilità e nei match quelli estremi è più in WWE che si mettono un freno è più quello sì però AEW non è un indie e questo è il fatto cioè no no certo hanno una certa risonanza quindi io penso ancora li avevo mandato Mattia a All In gli stecchini in testa a John Moxley che si aprono a fiore a raggera ma anche io c'è una roba stupidissima nel match di gruppo che ordinano un Deliveroo fanno arrivare il furgoncino della pasticceria nel campo solo per far si dare il vassoio ai pasticcini e usarlo come arma è una cosa di una stupidità imbarazzante però a me ha ammazzato quando l'ho vista hanno queste queste robe un po' un po' ma poi fanno fanno delle cose anche a livello proprio di di violenza che sono sono anche eccessive sì a volte anche troppo perché secondo me Darby Allin ci rimane prima o poi anche Sting voglio dire è il solito abuso di anziano di cui si parla ogni tanto cioè calma Cristobl è caduto beh adesso si fa l'ultimo regno titolato della sua carriera poi si ritira sì basta però ok però io tipo ogni volta che entra Rick Flair io ho paura ogni volta che entra Rick Flair e gli dico io ho una paura fottuta sì ma è sopravvissuta un incidente aereo quello ma certo però tipo quando tira le chop ho detto qualcuno mandi un medico perché secondo me si è fratturato le nocche ma sì Cristobl è tirato tutti insieme col buono talco la cosa bella è che non è cambiato nulla è Rick Flair esattamente come una volta solo più anziano e piccolo perché si è ristretto infatti però quando entra il carisma è lo stesso è invariato lui ha la stessa voglia di menare le mani di prima solo che se le mena secondo me si frattura il polso capite questo è il problema però il problema più grosso dell'AW sono i continui kick out mosse che dovrebbero cessare l'uso della vita sono d'accordo il problema è Tony Khan poi magari sarò impopolare però insomma eh sì il problema è Tony Khan che lascia la libertà di fare queste cose esatto però diciamo che quello è un po' uno stile nel senso che nelle indie effettivamente i match sono molto basati però ripeto non è un indie quello è vero però cercano un po' di fare un grande mix tra lo stile indie americano un po' di giapponese se quel match lì me lo fai in pay per view io sono d'accordo però se me lo fai ogni settimana a Dynamite a Rampage e di qua a Dark anche nello show YouTube se tutto è speciale niente è speciale è quello capito mi manca veramente il senso di evento speciale dell'AW io all'inizio ero presissimo ma non ce la faccio ora il problema è che sono cioè i loro i loro settimanali hanno la caratura sempre a livello di lottato di un pay per view è quello ti sto dicendo infatti è quello e il problema qual è è che secondo me è anche peggio come dici tu che proprio perché sono già estremi relativamente nei settimanali quando arriva le pay per view fanno delle robe che ogni tanto ti dico ma non interviene come un'autorità per arrestare ma si Cristo perché ci sono delle volte in cui ho pensato questo è morto sì sì ma anche Ali adesso portano i miei barri con il mio sacco eh sì 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 infatti tra l'altro mi sa che si è mezzo spappolato Jeff Hardy negli ultimi però no perché dico che hanno ucciso l'efficacia di alcune mosse a volte anche l'evoluzione del business nel senso la DDT ai tempi di Jack the Snake era mortale adesso per basi ne esistono 300 varianti e si rialzano tutti sì però magari non dopo 10 DDT il Super Kick ormai veramente ce ne fanno 30 in ogni match capite quello è il discorso sì 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 quello è il dubbio il classico Super Kick party come che c'entra la DDT ci sono ci sono delle mosse che in un determinato periodo storico sembravano incredibili e letali ma che per l'evoluzione del lottato dopo anni diventano la norma o Al Kogan chiude dei match con un leg drop quello sì poi le conseguenze si vedono guarda Chris Benoit aveva aveva la fanta al posto del cervello fisicamente parlando non li voglio non li voglio giustificare è in dubbio che esagerino e io sono perfettamente d'accordo dico solo che non mi stupisce vedere delle mosse che in determinati contesti sono letali diventare manovre di raccordo in altri contesti è aumentato a dismisura anche l'atletismo degli atleti prima fare un semplice moonsault era qualcosa di incredibile adesso ci sono le 4.50 c'è un po' di problemi di connessione sono io sono io mannaggia mannaggia però ad esempio secondo me è anche un periodo felice per l'AW perché hanno iniziato a imparare a fare delle storyline un filino più interessanti ancora non sono a livello però è da qualche mese che io vedo già un un livello di scrittura leggermente migliore cioè almeno mi viene voglia di guardare l'episodio successivo perché la cosa di Copeland e Cage a me sta piacendo un sacco un po' ripetitivo un po' ridondante per l'amor di Dio però quella si scrive anche molto facilmente sendo anche basata su un rapporto reale però sai cosa il colpo di scena che c'è stato l'evento non mi ricordo il nome dell'evento però quello al trentesimo quello proprio finale ah no World's End si esatto World's End quello non mi è dispiaciuto con 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 Copeland che vince ma Cage che riesce ancora una volta a manipolare Lucius Aulus a farsi dare la valigetta per il titolo e rivince il titolo perché schiena Copeland che era morto praticamente no no quella è stata quella è una bella storyline vince ma perde comunque quindi insomma ci sta sì no intanto leggo che la DDT normale fa pietà ripeto andate sul finire degli anni 80 e vedete i match di Roberts ragazzi era la mossa più over era come l'Arche e io oggi uguale sì sì questo saliva sul ring e cominciavano a dire DDT DDT ed era una cazza di DDT normalissima adesso il ragazzo sicuramente è influenzato dal fatto che non avrà mai visto il wrestling anni 80 e vede la DDT come mossa generica e dopo eseguita il wrestling non tenterò manco più lo schierò ma esattamente ma esattamente quello che dico non è che sia che sia d'accordo con questa impostazione ma un ragazzo che si sta approcciando adesso al wrestling quando vedrà che Shawn Michaels chiudeva i match col super chi dirà ah ne bastava uno stop sì però è un cane che si morde la coda dirà in questo modo perché ha visto che l'hanno inflazionato fino a questo punto e la gomitata di Macho Man brutta un cazzo se permetti onestamente come effettivamente la gomitata di Macho Man onestamente quello per me funzionerebbe anche oggi invece ad esempio Bailey l'ha utilizzata come finisce per un periodo di tempo in citazione a Randy Savage quindi vabbè 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 altre cose c'è chi dice Sasha in AW ma forse forse sì per me Okada è da AW so che alcuni hanno ancora la fantasia del post Wrestlemania eccetera ma per me va lì è un bel feud con Nakamura sì bello ma proprio per questioni di impegni suoi secondo me non firma con la WWE lieto di essere smentito ovviamente ah che tu dici che continua si continuerà a fare il ripallo Giappone occidente sì se fai in quel modo la WWE è esclusa ovviamente ultima run titolata John Cena la dareste no no adesso obiettivamente ma sembra un anziale non ospizio quando si muove durante i combattimenti basta fategli fare l'attore ma poi lo vedi proprio con ha questo petto che diventa così ha il fiatone ma ci sta è un sacco che combatte poco ma poi ormai è un attore basta ma forse ma secondo me gli manca giusto il match di Riti ero dove vince sì io dico che ormai veramente poco la corda l'ha tirata abbastanza non escludo che poi nei prossimi anni possa arrivare come guest ogni tanto come sta facendo ogni tanto l'altro meccettino te lo fa anche perché lui il cuore il cuore ce l'ha lì nel senso quando torna lo si vede che è felicissimo ma fisicamente non ce la fa se ce la facesse io l'ultima run di John Cena la utilizzerei per proporre il fantomatico Ternil di Cena finalmente lo fai diventare cattivo fai qualcosa di diverso quantomeno ma lui non ce la fa non riesce quindi no è anche perché giustamente dovrebbe essere una run quella non solo match almeno se lo faremo mesi esatto non è solo quello il problema il problema è che lui allora io ero contentissimo quando durante lo sciopero ha fatto quei due mesi in Smackdown poi lui era contento quando l'hanno portato in India a fare l'house show cioè lui era contentissimo il problema però è proprio come dice Max fisico cioè contro solo Sicoa ha finito che sembrava essere bisogno di un defibrillatore distrutto un po' doveva fare la parte non è solamente l'età è anche il fatto che uno manca sul ring da due tre quattro anni non è che ritorna lì guarda Sian Punk comunque ha lottato fino ad agosto dello scorso anno eppure è tornato e si è spezzato sai qual è il fatto il fatto è che poi secondo me è anche il discorso che avendo una carriera comunque piuttosto avviata come attore mainstream ti tiene tanto lontano dal ring e secondo me cambia anche la forma mentis cioè perdi proprio l'abitudine Punk non ha mai avuto quella svolta lì quindi lui è settato proprio come mindset sull'ottato Sina sono anni che ha la testa altrove certo quindi secondo me fa tanto anche quello sì oltretutto deve anche cercare di non farsi male perché altrimenti i film è capito sì non può neanche esagerare ho capito che poi con solo doveva fare la parte di quello sconfitto quindi si alzava lentamente anche apposta però se lo guardi respira veramente come un mantice alla fine cioè aveva proprio gli mancava il fiato lo vedevi che aveva sofferto tanto per fare quel match ma più che quell'incontro io vi cito quello con Austin Theory a Wrestlemania Madonna con Austin Theory a Wrestlemania lì non doveva neanche fare nessuna parte di quello che subisce sta terra non ce la faceva però a fare un incontro degno contro uno molto più giovane di lui tra l'altro quindi non non è solo lottatore eccezionale Austin Theory però comunque fisicamente è la forma fisica sicuramente perché anche lui fa solo quello al momento quindi ci sta sì 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 Reigns non è malato in chat Reigns non è malato che vuol dire boh no leggevo praticamente la stessa domanda però rapportata ad Orton quanti titoli mondiali gli dareste ancora posso essere sincero zero zero idem che cazzo deve fare il titolo mondiale a Orton scusa non gli serve a niente a niente cioè lui nel senso può durare ancora di più di Sina molto più di Sina può farti delle run può farti degli anni attivo però non gli serve vincere il titolo mondiale può fare degli incontri può fare delle faide ma arrivare di nuovo al titolo mondiale non non gli cambia la vita no no anche perché ormai ha raggiunto quello status di leggenda ancora in attività che basta avanza sì 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 sicuramente potrà fare di più rispetto a Sina e gli altri perché a lui la velleità attoriale non ce l'ha però questo è in dubbio però il titolo basta diamolo ad altri facciamo un cambio generazionale vero e proprio roba secondaria sì ovviamente roba secondaria se si vuole fare un girettino con Stati Uniti intercontinentale coppia ma certo l'ultimo titolo che ha vinto era quello di coppia con Riddle l'ultimo titolo che ha vinto di coppia con Riddle ma perché c'era una bella storia c'era c'erano gli Archei Bro che funzionavano e andava benissimo così non serviva a dargli di più ma come un'altra run titolata Ric Flair ma l'abbiamo appena detto si regge con gli stuzzicadenti oddio aspetta in AEW secondo me è possibile non lo è possibile perché c'è tutto che possono seriamente intentare una causa per circonvenzione di incapace io sono convinto che è sempre lì a fumarsi i razzoni con Tyson lo seguite su Sting e in un'altra anche lui tra l'altro sta per tirare ma ancora si ritira si si ha una presenza scenica diversa confronto a Flair sembra c'è anche da dire che col fatto che entra in scena sempre con la faccia dipinta è vero aiuta capito non hai la dimensione della sua anzianità no ma anche senza fidati che io lo vidi in albergo l'anno scorso a Londra e sembra è come Andrea Taker che comunque sembra sempre super in forma sì esatto Ric Flair contro Sting credo sarebbe il peggiore match dell'anno madonna ma ragazzi ma abbiamo avuto tutti paura che il ritiro di Sting fosse quello abbiamo avuto tutti quanti il terrore è come farlo combattere contro un giunco ma che ma non puoi ma cammina ormai ormai sembra un anziano di Malibu entra con i pantaloni ascellari ha sempre lo stesso carisma ha 74 anni ragazzi ma basta ma basta ma dai come fai Cristo ma poi lo vedi che ti può fare chop e e si stupisce se sei riuscito a farlo si muove massimo rispetto massimo rispetto ma ricordiamocelo per com'era all'apice se no finisce come la DX contro i Brothers of Destruction l'inarabbia che mamma mia ti veniva da piangere dai soprattutto seriamente io avrei paura adesso senza battute avrei paura che finisce con lui che va in ospedale grave ma se tanto puoi combattere ma lui nel match che ha fatto di ritiro qualche anno fa quell'incontro di coppia aveva raccontato di aver perso conoscenza comunque mi dicevate che aveva avuto una commozione cerebrale addirittura si nel match con Andrade si era ed era qualche anno fa adesso cosa che succede al primo colpo che prende cazzo gli esce il testio da dietro come fai allora chiudiamo ultima domanda dai ci chiedono pareri su Nick Nemeth che sarebbe Ziggler per me uno dei migliori atleti del settore io l'ho sempre adorato sempre pare che sia una mezza testa dei cazzo nel senso se non l'hanno pushato mai del tutto pare che si tratti di una commistione tra incapacità dei booker ma anche su esternazioni non proprio piacevoli che forse però le esternazioni sono arrivate non cioè abbastanza alla fine della carriera nel senso quando dopo un po' che era sfruttato male come conseguenza anche un pochino no? lui nel 2013 si lamentava che il main event di Wrestlemania era di nuovo The Rock contro Cena eh lo so eh ti tagli le gambe però se sei in quell'azienda nel senso puoi pensare lo penso anch'io non avrei di nuovo fatto The Rock Cena a main event però non lavoro in WWE non devo essere uno che non le mandava a dire quello si adesso vabbè in TNA gli danno il titolo mondiale nel giro di un anno e spero che riesca a mettere in risalto le sue capacità che ci sono e sono notevoli sì veramente secondo me è veramente interessante ora come ora mi ha sempre fatto godere all'apice della carriera sì lui quando era motivato era fantastico aveva incassato il Money in the Bank vero? sì sì aveva vinto due volte il titolo del mondo io con la vittoria lì era stata qualcosa di incredibile era venuto giù il palazzo del Money in the Bank io vi cito anche il finale di quel Survivor Series dove rimane lui come unico membro del Team Sina sì è fantastico lì però non c'è mai stata continuità né da parte della compagnia né anche da parte sua è sempre mancata la continuità il problema è lì è pazzesco notare come siano volubili le carriere di certi wrestler passano veramente dalle stelle alle stalle in tempo di uno starnuto è allucinante è anche un discorso tipico della vita per una storia di successo se ne sono miliardi di fallimenti però attenzione ma sai cos'è è vero che è una cosa che succede per tutto anche ad attori basta una cosa sbagliata un qualcosa ti buttano fuori però con il wrestler ho notato che è veramente un lampo cioè letteralmente riescono a passare da una fase felicissima a magari tempo qualche giorno a a crollare completamente o viceversa sì anche sì sì cioè è proprio mi sembra più rapido il passaggio anche all'inverso rispetto agli altri settori dell'intertenimento dove magari la cosa è leggermente più graduale è un business pietato quello sicuramente sì sì ma poi non ci sono sindacati non ci sono garanzie non ci sono non c'è niente del genere che tuteli i wrestler quindi ti possono letteralmente licenziare per qualsiasi cosa tu faccia senza motivazione quindi loro secondo me hanno anche una problematica a livello di percezione dico questo questo proprio rapidamente che a me il commento che mi fa più incazzare non è il ma il wrestler è finto che è quello vabbè ok è quando la gente vuole negare che sia uno sport cioè questa cosa qui questo mi dà fastidio perché ok che è un entertainment sport sport statement ok però puttaneva come fai guardando anche un match mediocre a dire che non è sport ragazzi la definizione del dizionario è semplice lo sport è qualsiasi cosa preveda uno sforzo fisico cioè se tu vuoi fare una corsa da solo è sport non è che non è sport perché non stai competendo con nessuno tu dici che la gente lo confonde con la competizione che è un'altra cosa esatto esatto perché non deve essere competitivo allora sport competitivo anche lì però tra virgolette perché la competizione è una competizione diversa non fisica nel senso che nel backstage c'è la competizione al netto che il film si è piaciuto o no quando lei chiede ma non è tutto finto lui spiega che la cintura è una promozione ecco esatto ma c'è una competizione perché comunque la cintura magari non la combatti realmente fisicamente però devi combattere c'è la competizione per arrivare a far sì che la dirigenza ti dica tu avrai la cintura è un attestato nel backstage c'è più competizione che in altri sport esatto è anche nel cosiddetto locker room c'è la competizione per farsi vedere e far capire di essere degni della cintura quindi non è vero che non è competitivo se vogliamo stare a guardare è molto competitivo rispetto a quella verissimo va bene siamo in chiusura è stata una puntata come al solito bella ricca e sfaccettata salute e ringrazio Kiri84 grazie mille ancora è un piacere veramente oggi è stata una puntata molto molto figa tra l'altro io aggiungo che nel mentre ho guardato anche i biglietti per Berlino penso che non andrò neanche lì perché dei prezzi guarda sono disponibili ancora tipo delle seconde terze file ma ci vogliono 2800 euro si ma giuro dopo ti passo il link se vuoi ci credo c'è anche la combo la combo è conveniente perché viene sulle 2600 euro la combo però sono comunque quasi 3000 euro per Smackdown mettici poi il viaggio l'albergo e tutto come uno scooter di buono cioè va bene tutto hai capito quindi ci vediamo la settimana prossima ragazzi grazie ancora saluto Victor grazie come sempre puntata molto bella vedo con piacere che c'è tanto seguito ormai quindi questa cosa mi scalda tanto il cuore più che altro perché era una scommessa quindi stiamo spiccando poco a poco grazie mille Max grazie a voi per la chiacchierata appuntamento settimana prossima ma a questo punto diciamolo adesso perché dubito lo ripeteremo ogni settimana ci vediamo a Bologna certo ma il raduno presciò lo facciamo sappiamo possiamo fare una cosa tipo birra e salsicce così per rendere ma molto volentieri tipo beer money ma quelle salsicce sì quelle salsicce oltre la birra sausage lo facciamo lo radunino mi sembra un ottimo ma poi ho già visto Franchini che ha scritto Victor ma ragazzi buttiamo giù buttiamo giù il palazzetto lo distruggiamo mi fa tanto piacere quando intervengono grazie grazie mille a tutti ragazzi grazie ci vediamo venerdì prossimo alle 14 ma alle 17 c'è faccia di nerd e ci saranno delle cose da dire ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao